Vittoria doveva essere, vittoria è stata per la Uneti Work e Busto Arsizio, che si impone 3-1 su Bergamo in uno di due anticipi della quarta giornata di Serie 1 femminile e per 24 ore almeno raggiunge Scandiccio e Conegliano in testa alla classifica con 9 punti. Un match a senso unico per la squadra di Mencarelli, eccezione fatta per il secondo parziale, quando la Foppa Pedretti, ancora ultima con 0 punti e 3 soli 7 vinti, ha annullato a stufi e compagne 4 set point per chiudere poi a sua volta al quinto 33-31. Un fuoco di paglia. La Unet, pure priva di Diuffe, fermata in allenamento da un'ematomia all'occhio sinistro, ha fatto la differenza a ricezione, attacco e contrattacco, trascinata dal trio Gennari-Barce-Piani, quest'ultima classe 98 sostituta proprio di Diuffe, schierata opposta ed eletta poi MVP del match. Busto ora è attesa alle sfide con Monza e Legnano, deve crescere nella gestione di alcuni parziali, ma si conferma mina vagante del torneo con potenziale ancora non del tutto espresso e un'ottima Orro in regia. Parziali 25-14, 31-33, 25-11 e 25-16 per Busto Arsizio. Oggi non era per niente facile perché sappiamo la voglia che ha Bergamo comunque di cominciare il suo campionato e cominciare a fare punti e sicuramente la mancanza di Valentina ci ha fatto preoccupare da ieri, oggi anche Sara ha avuto un problema durante la partita, però devo dire io faccio i complimenti a Vittoria, a Piani perché è stata molto coraggiosa, sostituire Valentina non è facile, per cui brave noi per il gioco di squadra che siamo riusciti a fare nonostante i problemi. Grazie a tutti.